Primo appuntamento settimanale di Love Is It Er termina qui la settimana di programmazione di Love Is It Er, la sopopera turca dal titolo originale Senkal Kapimi. Iniziata lo scorso 31 maggio, viene trasmessa in prima visione in Italia su Canale 5. Nella puntata odierna partirà alle 16.55 circa subito dopo il daytime del grande fratello VIP 6 e avrà una durata di circa mezz'ora. Cosa accadrà nella serie tv lunedì 15 novembre 2021? Per scoprirlo basta seguirla sulla rete Ammiraglia oppure su Mediaset Play Infinity in diretta alle 16. 55 circa dal nei giorni di programmazione. Love Is It Er, Eda, Melec e Ceren pedinano Selin Le anticipazioni della prima puntata settimanale di Love Is It Er, svelano che Serkan sarà molto preso da Edda. Per questo motivo il suo caro amico Engin non perde l'occasione di farglielo notare. Selin, sospettata da Eda. Melec e Ceren di essere incinta, e per questo da loro pedinata, si reccherà in un ospedale. Al suo interno le tre amiche cercheranno le prove che confermino o smentiscano la gravidanza della perfida ragazza. Selin ha un malore davvero incinta agli spoiler di Love Is It Er, Eda e Errinonda lunedì 15 novembre 2021, svelano anche che alla fine, presumendo che Selin si sia ubriacata, la loro conclusione sarà che stia fingendo. Il motivo, per costringere Eda, di cui conosce il senso di responsabilità, a lasciare Serkan padre del bambino. Eda affronterà Selin, ma proprio in quel momento quest'ultima si sentirà male, in ospedale, confermeranno che effettivamente la ragazza sta aspettando un bambino. Cos'altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la sopopera turca di Canale 5. Cos'altro accadrà?